Dal caso Bari le indagini della locale magistratura sulle prossime comunali e per le elezioni europee, un pericolo che si legge nelle carte che viene evidenziato nel rischio di compravendita dei voti e carte dell'inchiesta che lo scorso 4 aprile ha già portato a 8 arresti e 2 divieti di dimora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata la corruzione elettorale per le passate amministrative di Trigiano e Grumo. Appula tra gli indagati anche l'assessora ai trasporti della Regione Puglia Anita Mauro Di Noia che si è dimessa anche dal Partito Democratico. Nell'inchiesta coinvolti il marito dell'ex assessora Sandro Cataldo e il sindaco di Trigiano che è stato sospeso dal prefetto, Antonio Donatelli. Questi ultimi due proprio oggi interrogati dal giudice per le indagini preliminari sia Cataldo che Donatelli si trovano entrambi ai domiciliari. Una vicenda che scuote naturalmente il Partito Democratico e i rapporti interni al centro-sinistra con il Movimento 5 Stelle che ha preso clamorosamente le distanze. Una vicenda che con i riferimenti anche a quella di Torino porta i vertici del PD a ripensare anche alle regole interne per le candidature. Insomma una vera e propria tempesta. A Taranto per una conferenza stampa Michele Emiliano così risponde. Presidente ci dice qualcosa sul caso Bari? Io sto molto sereno, questo va detto, ci vuole tempo per capire bene le cose e quindi tranquillizzo tutti. Io le bugie non le so dire e il mio sguardo se è sereno vuol dire che la mia serenità è autentica.